Festeggia il nuovo anno con il cenone di San Silvestro, firmato del sito hotel Le Due Torri, 0825 67 00 01. Non sono tardati i primi segnali di dissenso dopo la diatriba che ha caratterizzato la presentazione delle liste per la composizione del consiglio di distretto dell'ente idrico campano. A farne le spese anche la maggioranza consigliare che ha di fatto quasi disertato la penultima seduta di consiglio comunale del 2016. E' stata anche questa discussione resa possibile grazie alla presenza dell'opposizione che ha risposto presente garantendo il numero legale. 11 consiglieri di maggioranza seduti ai loro posti nei banchi. Festa Genovese, Grella, Russo, Cuciniello, Miro, Matetic, Percopo, Amodeo, Medugno. L'unico ad essere assente e giustificato è il consigliere Negrone colpito da un grave lutto in famiglia. Una nota politica stonata per il sindaco ma ancora di più per la cittadinanza che vede accennati argomenti importanti affrontati dal consiglio solo grazie alle minoranze. Questa la paralisi amministrativa da più parti criticata. Questione ex post ed Eliseo con i parcheggi non autorizzati, tributi e cartelle pazze. Sono stati al centro prima di interrogazioni poi di dibattito. Intanto sono stati ufficializzati in consiglio il passaggio della consigliera Monica Spiezia al gruppo di Forza Italia e di Nicola Battista all'Unione di Centro. La seduta ha visto la rimodulazione dei membri delle sette commissioni. Area vasta e futuro. L'assessore Giannacone chiede il ritiro dell'argomento all'ordine del giorno per l'assenza della maggioranza. Interpellanza firma del gruppo democratici per Avellino in ordine allo stato di realizzazione e lavori della metropolitana leggera, obiettivi e finalità dell'amministrazione comunale. L'assessore Costantino Preziosi legge un documento che fa la cronistoria della metropolitana partendo dal 2000. Nel frattempo nelle stanze di via tagliamento a riprova dei malumori interni alla maggioranza si stava svolgendo un faccia a faccia chiarificatore.